Donna Donna, l'essere supremo che ci mise al mondo in modo estremo, prima di guardarla, desiderando di possederla, ammirarla e venerarla scrutando il suo cuore quando parla, le sue mani carezzandoci il volto di ieri e domani, le sue braccia stringendoci forte, abbracciandoci sempre, i suoi occhi la notte a vegliarci senza svegliarci, le sue labbra a parlarci, con i baci a sfiorarci, i suoi seni a sfamarci nei tempi lontani, ogni donna rappresenta la madre, forse un giorno ci renderà padre, non va trattata come oggetto, ma con il più puro rispetto, non va presa con la forza, ma con grazia, dolcezza e amorevolezza, dentro lei lentamente passando per il cuore, seducendole anima, corpo e mente.